Continua in Comune di Milano il dibattito sull'Imu, il PD chiede sconti sulle seconde abitazioni affittate regolarmente. Il Presidente del Consiglio Comunale Rizzo chiede di aumentare l'imposta ai multi proprietari. L'assessore Tabacci per il momento non si sbilancia e ha dichiarato valuteremo le ipotesi. Continua a tenere banco il caso Gaffuri, il capogruppo del PD in Regione Lombardia, assente dall'Aula nel corso della discussione della mozione di sfiducia nei confronti di Roberto Formigoni, che ora è pronto a fare un passo indietro. Lunedì prossimo i consiglieri del PD si confronteranno in una riunione, non è escluso che Gaffuri possa essere sostituito. Stefano Boeri ha lanciato la proposta di un congresso straordinario del Partito Democratico Lombardo e Milanese in autunno, smuovere le incrostazioni delle correnti, eleggere nuovi dirigenti e riprendere in mano la questione settentrionale. Questi gli argomenti caldi da discutere con urgenza, secondo l'assessore alla cultura di Milano. Deve rimanere in carcere l'ex assessore Lombardo Massimo Ponzoni. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Monza, davanti al quale il prossimo 13 giugno si aprirà il processo con rito immediato a carico del politico del PDL, arrestato lo scorso gennaio nell'inchiesta con al centro i reati di corruzione, concussione e peculato, appropriazione in debita e bancarotta nata dal crack della società Il Pellicano. I finanziari del nucleo di Polizia Tributaria di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Milano nei confronti di 13 persone accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e spaccio nei locali della Movida milanese. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo Lombardo, hanno consentito di denunciare 39 persone. 60.000 persone per Bruce Springsteen ieri sera a San Siro. Il boss in splendida forma si è esibito per la prima tappa italiana del suo tour. Il concerto, evento che era uno tra gli appuntamenti musicali più attesi in assoluto d'inizio estate, è stato anche quello che ha riportato il grande musicista venuto da Freehold per la quarta volta al Meazza di Milano. È saltato l'incontro tra Silvio Berlusconi e l'emiro del Dubai Mohamed Bin Rashid Al Maktoum previsto per oggi. Da quanto si è appreso, i due avrebbero dovuto affrontare la questione della cessione di una parte delle quote societarie del club rossonero dal 10 al 20%.